Questi sono tre esempi diversi di conflitto. All'interno di questi tre paesi, di queste tre zone del mondo però c'è un elemento comune che abbiamo definito il minimo comune denominatore, ovvero la costruzione di un muro della vergogna, di muri della vergogna, di separazione. Ad esempio per ritornare insieme a Michele in Palestina, oramai dal 2002 con il governo di Sharon è stata decisa la costruzione del muro dell'Apartheid, un muro che si estende per circa 700 chilometri. Purtroppo non abbiamo un'immagine, una cartina di quelli che sono i territori perché dalle cartine si vede molto bene in che modo il muro e i diversi muri che vengono costruiti servono proprio per chiudere, distruggere quella che può essere l'unità territoriale dei territori occupati. Si vede molto bene che questi muri che vengono costruiti da un lato addirittura chiudono anche quasi su tre lati alcuni villaggi e impediscano ad esempio ai contadini di raggiungere le loro case, le loro terre per andare a coltivare tutti i giorni e quindi di poter lavorare. Si vede poi come una parte di villaggi siano addirittura schiacciati tra quello che è il muro e la linea verde che è la linea dell'armistizio e poi come alcuni villaggi addirittura siano sotto minaccia di sgombero in alcune zone dove il muro deve essere poi ultimato. Quindi è la costruzione di un muro che vede il tentativo di annichilire, di distruggere quella che può essere l'unità del popolo palestinese. Quali sono, quindi chiedo a te Michele, le conseguenze della costruzione di questo muro sulla popolazione? Allora facciamo una premessa, la sicurezza è la maschera che i governi usano non più in Medio Oriente ma oramai dappertutto per nascondere l'oppressione, la discriminazione, il razzismo dilagante. Però quando parliamo dei muri in Medio Oriente noi non dobbiamo dimenticare che c'è un altro muro che ha un'importanza fondamentale e che tutti hanno dimenticato. Ed è il muro che divide in due Nicosia e a Cipro, la famosa vicenda cipriota del conflitto tra Greci e Turchi e il fatto che all'inizio degli anni 70 quella crisi sfocò poi nell'invasione turca così come venne definita della zona nord ed orientale di Cipro e che portò alla costruzione di questo muro che ancora oggi divide la città. E quel muro anche in quel caso si disse serve per innanzitutto sancire una divisione tra i Greci e i Turchi che non vogliono vivere insieme ma che proprio qualche anno fa, 13 anni fa per l'esattezza, si è rivelato un muro di sicurezza, un muro di razzismo in realtà. Perché? Perché quando le Nazioni Unite hanno cercato di portare avanti un piano di pace, di riconciliazione, di soluzione politica per Cipro quindi riaprire le frontiere e fare di Cipro una terra per Greci e Turchi la popolazione greca ha detto ma a noi non interessa più ricongiungerci con la parte occupata dai Turchi a noi il muro sta benissimo, quindi il muro è diventato da una divisione nata da un conflitto, da una guerra è diventato lì il primo esempio in Medio Oriente di un muro del razzismo, di chi non vuole vivere con l'altro ed il muro israeliano costruito a partire dal 2002, la costruzione in effetti va avanti ancora oggi non è stata completata al 100%, è un muro anche quello che parte su basi legati alla sicurezza Israele ha sempre ripetuto questo muro ci serve per impedire ai terroristi palestinesi di entrare in Israele e di compiere degli attentati ma in realtà il progetto del muro era stato già elaborato addirittura dai laburisti su un principio fondamentale, la separazione, noi da una parte e loro dall'altra poi le cose sono andate in altri modi diciamo perché si è tutto più complicato e adesso la situazione è quella che raccontavamo anche prima però sta di fatto che quell'idea della separazione era assolutamente parte dell'ideologia del movimento sionista non quello di destra ma di quello che era sempre stato definito più progressista quello lì che era nato addirittura da leader che provenivano dal movimento socialista europeo e che avevano fondato Israele, questo proprio a dimostrazione di come quel movimento nazionalista il nazionalismo sionista sia poi stato un movimento che ha puntato con grande decisione su colonialismo da un lato e dall'altro ovviamente sulla separazione dall'altro il muro quindi parte nel 2002, Sharon lo comincia a costruire, Sharon era il primo ministro di Israele è morto qualche anno fa ma era stato un grande leader della destra quindi diede inizio alla costruzione del muro come leader della destra ma ripeto l'idea del muro esisteva già da anni ed era assolutamente condivisa un po' da tutti e Sharon decide di costruire un muro che ha diverse finalità che poi sono quelle condivise, lo dobbiamo dire con grande franchezza da gran parte della popolazione israeliana, uno la storia della sicurezza due la separazione dagli altri che dicevamo prima tre le questioni economiche, noi mondo sviluppato ad ovest dall'altra parte i palestinesi con le loro miserie ancora noi facciamo parte di un mondo che è quello occidentale e i palestinesi appartengono ad un altro mondo incompatibile con il nostro in più la questione ovviamente di appropriarsi delle risorse territoriali dei palestinesi perché il muro è stato definito di separazione di sicurezza però guarda caso non corre lungo la linea verde cioè quel confine dell'armistizio del 1948-49 che divideva all'epoca Israele dai territori occupati da quel 28% che rimaneva ancora della Palestina alla quale facevamo riferimento prima no, il muro costruito da Israele è un serpente che si insinua all'interno del territorio della Cis Giordania che corre intorno a Gerusalemme seguendo un percorso assolutamente politico e che vuole tenere dalla parte controllata pienamente da Israele in realtà Israele controlla tutto ma diciamo dalla parte israeliana sul versante israeliano una serie di territori che sono ricchi di acqua che sono ricchi di terre ed è un muro infatti che impedisce a tanti palestinesi di poter andare a coltivare le loro terre devono ottenere un permesso e molto spesso questo permesso non lo ottengono o lo ottengono saltuariamente poi c'è una vecchia legge ottomana che consente la confisca delle terre non coltivate quindi non coltivando più quelle terre diventano demanio pubblico e possono essere confiscate dall'esercito prima e quindi poi dallo Stato è una situazione ovviamente estremamente complessa ma che ha, e questo lo dobbiamo sempre ricordare un impatto incredibile sulla vita delle persone tu Francesca citavi le campagne, i villaggi ma questo muro intorno a Gerusalemme ha diviso centinaia di famiglie persone che erano abituate ad andare a Gerusalemme che si sono ritrovate di fronte la finestra di casa letteralmente a due metri di distanza una costruzione di cemento armato alta fino ad otto metri e che improvvisamente hanno dovuto rinunciare alla loro vita che era quella di andare a lavorare a Gerusalemme era quella di portare i figli a scuola a Gerusalemme per molti anni abbiamo raccontato un po' le vicende di chi cercava di aggirare il muro quando la costruzione non era ancora completa scavalcando questo muro infilandosi sotto le recinzioni eccetera per portare i figli a scuola per poter andare a visitare una sorella o un fratello che vivevano dall'altra parte è una situazione sconvolgente e purtroppo è diventata parte della realtà quotidiana palestinese di cui non si parla più il muro sta lì ed è il nostro muro se si parla in occidente del muro costruito a Israele quel muro lì è il nostro muro oramai quello che ci serve per proteggerci anche in maniera simbolica ovviamente da questo mondo che è incompatibile con il nostro questo mondo islamico questo mondo orientale che deve essere tenuto fuori dalla nostra vita e quindi si collega naturalmente a tutto quello che oggi vediamo rispetto alla questione dei migranti rispetto alle questioni del razzismo dilagante soprattutto in questo paese ma in tutta Europa grazie grazie a tutti grazie a tutti